Cristiano Militella, Pistoia alla Fortezza 59, si può dire un upload del tuo libro? Bello upload mi garba, sì assolutamente, tra l'altro in una data non casuale perché nel gennaio del 2004 davo alle stampe il primo Giulietta, quindi vent'anni dopo c'erano vent'anni di striscione e retrati da coprire perché tanti pensano che abbia fatto il libro dopo striscia, in realtà dopo il grande successo del libro poi arrivò anche la chiamata di striscia, dove ero già rimbalzato due volte. In un momento in cui si parla non benissimo anche del nostro calcio, di quello che si vive sugli spalti questo libro ha testimoniare che c'è anche tanto di buono sugli spalti italiani? Sì assolutamente, perché come questa frase un po' fatta, è un'eccellenza tutta italiana ma è vero perché il tifo, quello come lo conosciamo un po' da queste parti, con i tamburi, le striscioni, le torce proprio in tutta Europa si chiama tifo all'italiana, per quanto riguarda un po' la mia poetica chiamiamola così, tra virgolette, conferma che abbiamo un talento, vero, perché comunque di talento si tratta perché spesso è un po' sopra le righe, spesso è un po' boccaccesco, un po' grassoccio però riuscire in poche parole a essere anche feroci a volte, anche spietati o comunque sempre ironici, divertenti, è una cosa che perlomeno da cabarettista ammiro molto Quanto c'è di tagliato e censurato? È una bella domanda, molto attuale, molto contemporanea, diciamo che abbiamo cercato di censurarci ovviamente il libro è fatto prevalentemente dal contributo dei tifosi il tifoso non è quello che dice ah vinca il migliore, è quello che vuole vincere su autogol al 97esimo quindi da tifo, dal greco tifos, delirare in preda quindi a una febbre perché di questo parliamo quindi se mi dici quanto politicamente corretto è il libro abbiamo cercato di stare su un crinale che è quello che chi mi segue un po' conosce, quindi evitando scivoloni chiaramente c'è anche qualche cosa bella farcita il mio amico Gattuso, quante striscioni e cori contro li avranno fatto perché Gattuso è uno che dà l'anima quindi se ce l'hai con te è bene ma contro gli hanno detto e scritto di tutto se però tira fuori il genio, esce fuori il genio che scrive l'uomo discende da Gattuso, citando Darwin, secondo me anche Gattuso si fa una risata a quel punto hai detto la stessa cosa ma in modo almeno stravagante e originale grazie grazie